Unipegaso TV oggi incontra lo storico direttore generale dell'Università Telematica Pegaso, Elio Pariota. Elio Pariota ha la fortuna di aver potuto assistere al parto di questa università, quindi è un momento davvero forte, pregnante, che ti lascia certamente dei ricordi, delle sensazioni e di poter commentare, come fosse un ragazzino che cresce, questa creatura tecnologica, innovativa ha dieci anni, proprio in questi mesi abbiamo due anniversari importanti. Ecco, chiedo a Elio Pariota, che è anche padre, ecco come si è vissuto il parto e che immaginazione aveva rispetto a come sarebbe cresciuto questa creatura, come poteva diventare, che aspettative, poi invece cercheremo di capire se sono state rispettate queste aspettative. Guardi, devo dire che la creatura in fase prima di gestazione, la gestazione la possiamo far risalire ante 2006, quando si era in una fase progettuale, poi questo parto è avvenuto nel 2006 e questa creatura era ovviamente circondata da tante aspettative e da tante incognite, perché io ho sempre detto al mio amico presidente Danilo Ierbolino che probabilmente si andava a impositivo, ma comunque ad innovare, a scompaginare un sistema universitario che, così come tutti lo abbiamo conosciuto, ha vissuto per diversi secoli su uno standard in chiave formative accademiche, standard abbastanza rigido, abbastanza cattedratico, imprigionato anche in delle logiche dalle quali difficilmente si poteva uscire. Invece questa creatura si è avvissuto ed è cresciuta con la tecnologia, con una grande qualità accademica e con un'attenzione particolare alla ricerca e lo dico senza alcuna retorica, perché oggi siamo in grado di effettuare degli spin-off molto molto importanti con delle strutture primarie a livello internazionale, questo ovviamente ci incoraggia a fare sempre meglio. E quindi se mi dovessi fermare nell'asse del tempo a una fase adolescenziale, devo dire che quelle premesse non solo sono state rispettate, ma sono andate anche oltre ogni rosa previsione, nel senso che oggi noi abbiamo un adolescente, mettiamolo così, che sta vivendo un momento di grande immaginazione futura, che sa che ha le potenzialità per poter esprimere ancora di più di quello che finora ha espresso e sicuramente non abbandona il suo ruolo, mi passi il termine, tra virgolette di rivoluzionario, perché un po' rivoluzionari nel settore lo siamo stati e forse lo siamo ancora, ma cercando di dare il nostro modesto contributo, mai a contrassegnare una stagione di alternativa, assolutamente no. Quindi contributi che l'Università Telematica Pegaso in questo caso può dare all'intero sistema, credo, mi immagino, mi illudo, che possono essere fatti propri anche da tutto il sistema universitario nel suo complesso. E dunque per restare al suo parallelismo, oggi è un giovane che, forte dei suoi mezzi, della sua caratura, della sua poderosità, si appresta a solcare dei confini che sono anche quelli, i confini non soltanto domestici, ma sono confini ben più ampi. Questa sua riflessione, direttore, diciamo già indirettamente che questo giovane a questo punto, che pure è partito dal sud, da Napoli, è riuscito a farsi apprezzare un po' in giro per l'Italia e a mettere radici addirittura sempre più solidi a tal punto che Pegaso oggi ha le sue insegne fisiche, oltre che quelle virtuali e della telematica, in oltre 50 città italiane. Quindi si è dimostrato anche che questo ragionamento, questa ipotesi, questo progetto che partiva dal sud, poteva attecchire in maniera anche non immaginabile forse all'inizio in ogni luogo italiano, no? Non è stato facile. Immagini che il pregiudizio regnava sovrano praticamente dall'altro ieri, che dieci anni fa, quest'anno ricorre, tra pochi giorni ricorre il decennale, quindi voglio dire, era un periodo in cui l'università telematica era un soggetto estraneo alla percezione pubblica, l'università era stata sempre conosciuta in maniera stanziale, tradizionale, come dicevo prima, cattedratica, dove il sistema di erogazione dei contenuti didattici era in chiave unidirezionale, mentre adesso con le nuove tecnologie, con i nuovi modi di apprendimento, ovviamente c'è una eterodirezione e soprattutto un'interazione costante, dove il discente è al centro della proposta formativa. Ma questa rivoluzione era in un certo senso un po', ci guardavano con sospetto, gli stessi giornalisti che intervistavano all'inizio dicevano ma i titoli valgono la stessa maniera delle università tradizionali, insomma c'era un ambiente sicuramente che oggi non ritengo sia ostile, il messaggio è passato, la tecnologia ha fatto il suo corso, la qualità didattica non è più messa in dubbio, l'università telematica nel suo complesso diventa anche la prima scelta delle opzioni degli studenti, dei giovani e dei meno giovani, mentre prima era residuato. A colloquio con Elio Pariota, direttore generale dell'Università Telematica Pegaso, direttore non le chiedo di svelarci strategie, però di aiutarci a capire un direttore generale, come si muove dentro un'università, quali sono le sue sfide quotidiane per alimentare questo percorso già di successo? Io credo che un direttore generale nella mia visione deve avere ben a mente tre cose, innanzitutto essere un po' una fonte di equilibrio di tutti quelli che sono i pesi e contrapesi che agiscono nel sistema che è un ateneo così complesso, multiforme, nuovo e quindi cercare di temperare quelle che sono le fughe in avanti o inappropriate di certi comparti rispetto ad altri, ma ne parlo in buona fede, ma è un'azione di bilanciamento che va fatta in manutesa quotidianamente. Poi credo che bisogna avere una chiarezza di idee relativamente al proliferare, per esempio, dell'offerta didattica e non soltanto, ma dell'avvicinarsi a quelli che sono gli utenti. Lei faceva prima riferimento a una moltiplicità di sedi, è vero, noi all'inizio eravamo molto rigidi, ma una volta raffinati anche i sistemi di controllo abbiamo reso possibile un qualcosa che ci veniva richiesto dall'inizio, cioè quello di avvicinarsi dal punto di vista del chilometraggio all'università, all'utente. Terza cosa, credo che sia ineludibile, un manager, soprattutto con una visione generale che si rispetti, non può precludersi la strada di un ambiente operativo molto più vasto. Io credo che l'università telematica, di per sé, l'ho detto tante volte, sia ubiqua per definizione. Credo che i confini domestici, dopo un certo numero di anni e con l'aiuto della tecnologia, diventino angusti, sono già stati superati e credo che una delle ambizioni che un'università telematica debba avere, nel nostro caso ce l'abbiamo, sia quella di raggiungere anche l'ultimo villaggio più sperduto del pianeta. Ecco, in questa chiave che è tutta ultranazionale, io ritengo si stia muovendo i primi passi per una compiuta internazionalizzazione dell'Ateneo. Direttore, lei probabilmente è una delle persone che conosce di più il Presidente, no? Perché ha condiviso con lui, abbiamo visto i primissimi istanti, la nascita di questa università. Ecco, ci aiuti a capire quali vantaggi, ma anche quali sensibilità, quali difficoltà si percorrono vivendo accanto ad un visionario dinamico, uno che scrive un libro che si chiama Now, che oggi si occupa di capire come funzionano, non funzionano in Italia le start-up, che cerca di stare sempre sul pezzo del dibattito globale per alimentare il dibattito nel Paese. Ecco, come si vive accanto ad un Presidente come Iervolino? Beh, la domanda ovviamente implica un giudizio sull'uomo, oltre che sul professionista e sull'imprenditore, alla quale non mi sottraggo, innanzitutto perché il Presidente di Iervolino è anche un amico e devo dire che è un privilegio lavorare con lui, lo dico senza piaggeria alcuna e lui lo sa, perché ho sempre sostenuto che una proprietà è un Presidente giovane, che non è assente dalla fase gestionale, ma è fin troppo presente, che è un Presidente che con le sue decisioni condiziona fortemente tutto l'apparato, che anche se è verticistico risente di direttive quotidiane, è una fortuna perché, come diceva lei prima, è un innovatore per definizione. La categoria degli imprenditori innovatori non è così nutrita, nel senso che ce ne sono di buoni imprenditori ma che non sanno compiutamente innovare. Lui è un visionario ma che ha il senso pragmatico della realtà delle cose, sostiene che un'idea non può essere tale se non ha mezzi per esserle messe in pratica. Questa è la forza, perché tutto quello che in questi primi dieci anni abbiamo fatto, e io sono stato quasi al 100% partecipe di talune decisioni, in qualche caso anche suggerendo delle virate, non so fino a che punto si è riuscito, ma questo è un altro aspetto del discorso, voglio dire mi sono reso conto di avere a che fare con una persona sicuramente oltre la media, non solo come intelligenza pura ma come capacità strategica e programmatica. Ultima domanda, direttore Pegaso ormai pensa concretamente, ha già mosso i primi passi verso ciò che si chiama internazionalizzazione, quindi un marchio italiano che andrà a spendersi anche in altri luoghi del mondo, d'altra parte l'Italia davvero depositaria di alcuni elementi così esclusivi, penso ai beni culturali, al Medinite, al nostro modo di pensare, di progettare le cose che anche questa intuizione di Pegaso è assolutamente centrata. Ecco, le chiedo cosa ci possiamo attendere da questo sviluppo e soprattutto in che modo Pegaso, oltre che fare del bene a se stessa, in fondo è un'impresa privata italiana, come potrà fare bene anche ad un paese che ha la ricerca di soluzioni nuove per stare sul mercato globale. Le risponderò con un esempio. Recentemente siamo stati, io e il Presidente Iervolino negli Stati Uniti, siamo stati a delle università prestigiosissime, che nel ranking internazionale figurano tra le prime dieci. Abbiamo spiegato il nostro progetto, la nostra vision, ci hanno detto ma com'è in Italia non vi mettono i tappeti rossi, com'è possibile che non siete percepite come eccellenza. La mia risposta fu forse siamo anche percepiti ma non ce lo diranno mai, perché il nostro da questo punto di vista resta, lo dico con amarezza, un paese conservatore, dove i sistemi sono autobloccanti, dove ci sono principi per definizione difendibili oltre ogni oltre il costume, direi, e quindi questa cosa rappresenta un freno. Ma un freno non per noi, perché noi andiamo avanti, andremo avanti in omaggio a quella che è la nostra mission e alla nostra vision, che è quella, come dicevo prima, di mettere a disposizione la nostra tecnologia, il nostro modo di somministrare il sapere avvalendoci delle collaborazioni più quotate a livello mondiale, perché quello che non si è compreso fino in fondo è che l'ambiente learning mi permette di prendere le migliori scienze, basta pagarle evidentemente, ma faccio un esempio, se io voglio il premio Nobel dell'economia che mi viene a fare la lezione, me la registra e può fare la lezione, ma i miei studenti studiano su quello che ha detto con tutto il rispetto dei docenti ordinari, il premio Nobel dell'economia. Quindi questo è un mezzo poderoso che dobbiamo assecondare e dobbiamo fare in modo che la comunità globale si approcci, già si è approcciata in larga parte del pianeta, ma continui ad approcciarsi in maniera sempre più sistematica a questo modo di essere. Qual è la prospettiva? Credo che per l'Italia sia una prospettiva di valorizzare quelle che sono le sue eccellenze, lei parlava prima del made in Italy classico, il fashion, il patrimonio artistico-culturale, l'enogastronomia, beh c'è anche l'istruzione. Io credo che in Italia non siamo secondi a nessuno come modo di fare istruzione, il problema è che dobbiamo adeguarci, dobbiamo adeguarci alle flessibilità necessarie, dobbiamo adeguarci ai modi di somministrazione, dobbiamo adeguarci al fatto che la somministrazione non viene più in modo cattedratico e unidirezionale. Quando faremo questo e quando anche le università tradizionali avranno acquisito questa che per noi è un'ovvietà, credo che faremo tutti insieme come è ovvio un passo in avanti. Io ringrazio il direttore Elio Pariota, a voi cosa dire? Beh anche quello che state facendo voi dall'altra parte in questo momento vi permette di sperimentare una novità assoluta in Italia, questa è davvero la prima università che vi consente di entrare nella piattaforma televisiva dell'università, di scrivere qualunque parola chiave, direttore, rettore, presidente, studente, docente, sede, lezioni, convegni, relazioni, qualunque domanda a voi avete, dall'altra parte vi risponde una faccia in prima persona. Quindi trasparenza totale, questa è l'altra mission interna di Pegaso, l'altra volontà della Governance Pegaso, spero stiate apprezzando, noi continueremo, io in questo ci sto mettendo la faccia proprio in questo progetto, continueremo a darvi elementi di valutazione costante affinché anche il sistema universitario italiano possa essere sempre più pronto, trasparente e vi risponda in prima persona come è giusto fare a chi sceglie un percorso di studio per il proprio futuro. Grazie direttore. Grazie a voi.